Archiviata in positivo gara 2, la Benfap Capodorlando ha rivolto la sua attenzione al parquet di Ravenna e spera di chiudere i conti stasera alle ore 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta su Antenna del Mediterraneo. Se dovesse perdere c'è l'ulteriore confronto sabato, sempre in trasferta ed eventualmente la bella Capodorlando martedì 7. Coach Marco Sodini, dopo aver avuto dal campo svariate conferme per la solidità della sua squadra, predica calma, convinto che i giochi non siano ancora chiusi. Vuole vincere gara 3 o la successiva in modo da poter rifiatare ed essere pronti alle nuove e più difficoltose sfide. Al momento il campo dice questo, un collettivo all'altezza della situazione che ha collezionato 12 vittorie consecutive, il record di Brandon Trice e le straordinarie prestazioni di Joe Trapani. Noi dobbiamo andare in casa e dobbiamo ribaltare questo con l'energia nervosa per prendere la partita. Non dobbiamo stare a pensare a questo, dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare giovedì sera, a quello che non abbiamo fatto oggi. O che ha funzionato meno o chi ha giocato meno bene, quello non conta niente. Dobbiamo resettare e andare, l'obiettivo è ritornare a giocare qua. Non dobbiamo fare l'errore di considerare la serie chiusa, dobbiamo andare a vincere gara 3 se possibile. Se non è possibile giocheremo gara 4, ma prima dobbiamo andare a pensare di vincere gara 3. Noi abbiamo sempre fatto così nell'anno, abbiamo pensato una partita dopo l'altra e dopo sono venuti i filotti, adesso siamo a 12 di fila. Però nel momento in cui pensassimo di poter abbassare di poco l'asticella della nostra attenzione, quello che succede sono i 10 su 16 da 3 punti.